Sì, sicuramente sì, ma non anch'io ne ho pensato perché sono in primo tempo per fare il gioco, ma sicuramente dall'inizio mi sentito bene, restamente a posto e ho fatto il tempo, se mi ha fatto la squadra. Ci vuol dire che ormai sei pienamente guarito e pensato, lo superiamo? Speriamo. Adesso mi sto passando un periodo molto difficile, quindi non è ancora sicuramente al 100%, ma io sto lavorando tanto e per me è impossibile e spessere bene. Ora per i consigli, dove sapete? No, no, stasera come ho detto, non ho sentito niente, ma sento che non è ancora al 100%, ma ho continuato a lavorare e spero che non è meglio. Sì, hai tante concorrenze lì davanti, ti è arrivato anche Mario, poter raccolare? Sì, ma ci sono tante partite, anche c'è spazio per giochi, per chi si sente meglio in un periodo giocherà. Sì, ci sono tante partite. Senti, quanto è importante questa notte? Molto, 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 se si è venuto molto importante. Sì, soprattutto per la fiducia della squadra, che dopo il sconfitto dentro Napoli abbiamo perso. e da oggi si è venuto più facile, infatti non è più facile. Come ti avete parlato tanto? Qual è la cosa che dovete superare, la cosa più importante che se non avete superato? Non mi ha potuto avere sì, ne abbiamo parlato tanto, ma soprattutto dovevamo trovare quel gioco dall'anno scorso, e la qualità abbiamo trovato, troviamo quello che abbiamo fatto e non l'abbiamo accettato nello scorso sicuramente. Grazie. Grazie.